Parla Londra, trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Mi sono rifugiato all'estero per parlare male in piena libertà di Garibaldi, di Berlusconi, di Napolitano, del governo, delle opposizioni, dei magistrati e del Papa. No, Papa no, sono un tipaccio ma devoto. Da lunedì al venerdì alle 20.30 su Rai1. Qui in Radio Londra, dal 14 marzo Rai1.